Ben tornati a tutti quanti in questo mio nuovo video e come avevo promesso eccoci qui con un nuovo video di unboxing perché sì, ho deciso di voler pubblicare più video possibile in questo periodo finché mi è permesso, finché riesco a registrarli ed oggi abbiamo un nuovo video di unboxing di un'edizione estera, in questo caso un'edizione inglese e vabbè, come al solito il titolo del video l'avete visto, quindi non è chissà quale sorpresa se la scatola collaborasse e quindi eccoci qui con l'edizione Criterion Collection di Pinocchio di Guillermo del Toro un capolavoro meraviglioso dell'animazione stop motion ora, questa è l'edizione Blu-ray perché io sono molto stupido e ho scoperto solo in ritardo che esisteva anche una versione 4K, medesima edizione sempre della Criterion però in 4K l'ho scoperto troppo tardi e quindi diciamo che mi sono accontentato del Blu-ray però va benissimo così tanto gli extra sono sempre gli stessi, il film è comunque sempre quello mi mangio un po' le mani perché appunto potevo stare più attento ma va bene anche così quindi, edizione Criterion era veramente da tanto tra l'altro che comprendevo la Criterion se vi ricordate c'era stato un periodo in cui per un anno, almeno in ogni video di aggiornamento che facevo un'edizione Criterion ve la presentavo e da allora invece ne è passato di tempo dall'ultima volta che ho preso una Criterion penso che l'ultimo che abbia preso, non mi ricordo se l'ultimo Criterion che ho preso era stato Antichrist di Montrier o le avventure acquatiche di Steve Zissou non mi ricordo, dovrei ricontrollare purtroppo non avere più la collezione a portata di vista ogni giorno mi confonde comunque sia, passiamo all'unboxing vero e proprio non nego che pensavo ci fosse una slipcover vabbè, proviamo con il mio amico piano piano ero convinto ci fosse una slipcover sopra invece è in puro stile Criterion appunto un semplice tra virgolette amarei per quanto ci sono comunque i Criterion che hanno la slipcover sopra e quindi come abbiamo visto tanti extra un'edizione audio video molto curata e in puro stile Criterion c'è anche un bel book dentro a notare anche la grafica del disco niente male non so se fosse qualcosa dietro ma no e adesso diamo una sfogliata insieme al booklet tra l'altro adoro il fatto che il booklet sia fatto di carta come sempre della Criterion non è mai quel plastificato lucidissimo ma è un po' più opaco e questa cosa è meravigliosa e voi ovviamente non lo potete sentire ma c'è un odore di carta che viene da questa da questo booklet che sembra una stampa antica ed è bellissimo considerando che parliamo di Pinocchio e qui appunto abbiamo come al solito il tipico booklet da Criterion tutti i credits foto e poi ci sono appunto gli approfondimenti le interviste e simili che cosa carinissima per questa piccola gemma dell'animazione che fortunatamente è stata gli è stato dato il giusto riconoscimento anche da parte del pubblico perché Guillermo del Toro eccolo qui Guillermone è assolutamente un grandissimo autore uh che bello c'è anche un intervento di Cornelia Funke non lo sapevo autrice che stimo tantissimo e che tra l'altro per Guillermo del Toro ha anche scritto l'edizione romanzata del labirinto del fauno infatti effettivamente non ci vedrai male Guillermo del Toro a girare qualche film tratto dai libri della Funke che meraviglia film che per chi l'ha visto lo sa benissimo chi non lo sa facciamo un discorso veloce veloce ovviamente con il Pinocchio di Collodi prende soltanto un'idea alla base ed è questa forse la cosa che ha decretato il successo comunque il vero apprezzamento nei confronti di quest'opera è il fatto che sì è l'ennesimo film su Pinocchio ne sono usciti tantissimi in questi anni ma è prima di tutto un film di Guillermo del Toro non a caso questo è il Guillermo del Toro Pinocchio ossia Pinocchio di Guillermo del Toro non c'è scritto Pinocchio di Carlo Collodi perché di quel Pinocchio prende appunto solo l'idea racconta un qualcosa di completamente diverso reinterpreta i personaggi in una maniera completamente diversa ma il punto è che lo fa rispettando lo spirito dell'opera originale non è come quello proprio fatto da Zemeckis e mi dispiace dirlo perché io stimo tantissimo Zemeckis ha fatto alcuni dei miei film preferiti ma il remake live action del classico Disney fatto da Zemeckis è veramente una delle cose più brutte e abberranti che abbiamo mai visto mentre il Pinocchio di Guillermo del Toro si va ad aggiungere a forse tra i migliori film mai fatti ispirati in questo caso a Pinocchio insieme a quello di Garrone a quello di Comencini al classico della Disney Pinocchio ci sono veramente tantissimi ci sono i film animati italiani non ce li scordiamo sperando che prima o poi vengano pubblicati anche in un'edizione degna di questo nome dei classici dell'animazione italiana dimenticati perché sobbarcati dal successo di altre opere però vabbè Guillermo del Toro ha voluto dare la sua versione e ha fatto veramente un lavoro eccezionale con un film di una poetica toccante tipica di Guillermo del Toro la cosa che mi era piaciuta tanto era proprio il fatto che guardando questo film prima di tutto avevo la sensazione sì sto guardando un film di Guillermo del Toro tra l'altro un film d'animazione di Guillermo del Toro e spero con tutto il cuore che ne faccia altri perché se questo è il suo modo di fare film d'animazione mamma mia aspettiamoci tanti altri capolavori perché Guillermo è sempre una sicurezza e quindi anche questo piccolo video in più è stato fatto io spero che questa edizione vi abbia interessato e l'unboxing vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao ciao